Inizia nel migliore dei modi il 2020 per l'Atletica Agropoli. Nel weekend appena passato ad Ancona è andato in scena il consueto Meeting Indoor che dà il via alla nuova stagione di gare. Il bilancio della trasferta nelle marche è affidato al direttore tecnico Agostino Scebi. Torniamo ad Ancona, dice, con un pazzesco Giuseppe Filpi e una crescita costante dei nostri atleti. Giuseppe, appartenente alla categoria Junior, ha disputato i 60 ostacoli con l'altezza degli assoluti, portando a casa un grande 8-19 e la sensazione che la differenza di altezza non sia assolutamente un problema. Queste uscite, aggiunge il direttore, servono anche per fare esperienza ai nostri ragazzi e per naturalmente invogliarli a fare sempre meglio. Intanto l'Atletica Agropoli si prepara ad un importante appuntamento perché per venerdì 17 gennaio l'auditorium del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli è in programma il Gran Galà dell'Atletica. Lo potremmo chiamare Gran Galà del Decennio, dice il presidente Angelo Palmieri, un nuovo decennio in cui ci tufferemo con rinnovato entusiasmo e voglia di stupire. Sarà il decennio in cui aumenteranno sia i praticanti che gli appassionati a questo sport e le presenze in maglia azzurra le potremo contare oltre la semplice mano. Intanto un augurio al giovane Giuseppe Filpi, originario di Novivelia, dunque un atleta cilentano doc.